io metto l'overdream quello che vuol succedere succeda terzo posto va benissimo così poteva andare molto peggio per come si era messa le situazioni non mi piaceva proprio ok abbiamo 640 coppe questo vuol dire che al prossimo grado ovvero quello 23 mancano solo 10 coppe dieci coppe e siamo al nuovo grado mai raggiunto con nessun altro brawler da me bollione si è messo la protezione si è messo per non farsi uccidere ma io l'ho ucciso lo stesso ma come ce n'è un altro laggiù ma che è se ti ha trasportato l'ho ucciso io non ho capito guarda ma il cazzo è un altro non è possibile se credi che possiamo stare qui tutto il tempo guarda te lo scordi ancora qua sei boh che cazzo l'ha lanciato qualcosa non lo sa lo sa lui forse la sua sorella non lo so ancora lì e guardano l'ho ucciso nessuno a questo qua ma perché uno di voi non si avvicina a me così gli faccio un culo quadrato come la faccia di minchia che avete porto quando ti ucciso ti ucciso ti ucciso ti giuro guarda e l'avevo detto che tu ci devo e l'ho fatto quindi grado 23 prima volta con un brawler 650 coppe ok adesso però non non facciamo altro andiamo seleziona anzi abbiamo delle missioni da fare noi non so se con qualche aspetto andiamo direttamente nel menu missioni ecco qua abbiamo da messare vincito battaglia con pollo bel o janette vediamo clicchiamo caso vediamo che pro la cita il chitarrista il chitarrista andiamo a scatarrare su los tass andiamo a scatarrare allora abbiamo cazzeggiato già abbastanza ma così è certo si sapeva che faceva una cosa del genere sto coglioni l'ho scatarrato per benino però mi ha ucciso lo stesso questa partita la vincerò forse guarda 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 per un colpo per un colpo porca vincere otto partite con il chitarrista ma voi vi rendete conto ma che minchia è porco abbiamo perso ancora coppe io non ci sto io non ci sto perché guarda se io devo perdere le coppe così è meglio che cambio evento cambio personaggio perché sto chitarrista la minchia proprio mi dovevano mettere le missioni non lo so io se si può andare se si può giocare con un personaggio così manco il tempo di giocare manco il tempo di giocare ma vi rendete conto allora io non dico più niente ci riparo allora ho perso tutte le coppe ho vinto prima le ho riprese ma è incredibile una cosa del genere ragà io ci riprovo però vabbè non vi prometto nulla sono sobrio vi giuro che sono sobrio le bestemme che sto tirando raga state vedendo una cosa incredibile però vi assicuro che sono sobrio un colpo li manca un colpo vaffanculo abbiamo vinto uno scontro in diretta per la prima volta nella storia con un chitarminchia qui un brawler che non vorrei mai usare nella vita però purtroppo sono stato obbligato ecco qua spariscono e muoiono da soli i brawler così dovrebbe fare sto chitargizzo della merda dovrebbe sparire da bros stars perché l'hanno messo perché allora siamo rimasti in tre possiamo vincere una partita con chitarmer guitarero vai a fare il gioco della chitarra vai magari ti trovi meglio sì uccidetevi tutti vai sto cazzo fratellone sto cazzo e sto cazzone vinciamo la partita con chitarmer il problema è che ce ne mancano altre sette sette partite con chitarmer vi rendete conto ragazzi io non lo so allora ci riproviamo però non assicuro niente nella vita perché chitarmer è sempre chitarmer chitarmer di rimarrà merda allora abbiamo due belle cassettine però chi cazzo c'è dall'altra parte a mister merdomen scude merdo porco chi a vincere sette partite così impossibile allora per fare queste missioni devo cambiare personaggi perché veramente proviamoci con questa ma non c'è si vada di malimpeggio si va l'aspira l'aspira polvere c'è vabbè aspira spero che aspira i coglioni di questo gioco guarda che in questo gioco coglioni ce ne sono fin troppi ma che ti credi davvero che io ti spacco le casse a te ma vaffan ecco non si può giocare più non si può giocare più allora questa cosa non è possibile perché abbiamo perso un sacco di coppe già circondato inizio gioco bravo bravo meno male che tu hai capito che deve andare dall'alto non da me non da me porco demonio è morto questo ora muore anche questo ok perché già cominciamo a ragionare uccidetevi tutti tre di voi il problema che ora questa 5 power e non solo due il segreto e non farlo avvicinare troppo il problema è che c'è sto cazzo di muro come lui ne ho capito cosa vuole fare questo vai che lo uccido vai che lo uccido ecco adesso non lo ucciderò più già è una cosa aver fatto una partita di vittoria con una sola vittoria è un incubo a 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